Karate Kid è un classico, un film molto più profondo di quanto non si ritenga. La filosofia di fondo è stata scritta da chi ha cognizione di causa e conoscenza delle arti marziali. Anche le interpretazioni sono efficaci, su tutte, ovviamente, quella di Pat Morita nel ruolo del maestro. Il punto debole del film sono, paradossalmente, proprio le scene di arti marziali, in cui l'imperizia dei praticanti è prevalente e manifesta. Si tratta però di un difetto che si può dire minore, proprio alla luce dei restanti pregi della pellicola.